Come promesso, in questo video vi mostrerò come installare Service CrossMix OS sulle vostre Trimui Smart Pro, subito dopo la sigla. Ciao, benvenuti o ben ritrovati qui sul mio canale YouTube. Come vi avevo promesso nel video dimostrativo su CrossMix OS per Trimui Smart Pro, al raggiungimento di 50 like vi avrei portato il tutorial su come installarlo ed eccoci qui finalmente oggi. Mi raccomando seguitelo per bene perché ci sono alcune operazioni da dover effettuare che non sono così scontate. Comunque sia vi lascerò tutti quanti i link qui sotto in descrizione, oltre a quelli dei software che vedrete in uso proprio nel tutorial, anche al video su CrossMix OS ma anche alla recensione sulla Trimui Smart Pro e così ovviamente anche tutti quanti i link per poterla acquistare. compreso il mio canale Telegram delle offerte, quindi date uno sguardo alla descrizione. Ma adesso partiamo e andiamo a vedere il tutorial. Eccoci qui finalmente al tutorial. Prima di partire, siccome in tantissimi davvero me lo chiedete dove acquisto le mie magliette, guardate questa quanto è bella, le acquisto tutte quante su Geeks Outfit, vi lascio il link qui sotto in descrizione. È uno store che vende t-shirt, felpe, felpe con cappuccio, ma anche t-shirt adattate a taglie forti, insomma che strizzano l'occhio al mondo nerd, davvero molto molto belle. Tra l'altro, proprio perché in tanti me lo avete chiesto, ecco che sono riuscito a farmi dare dei codici sconto che vi lascio sempre qui sotto in descrizione. Ma finalmente vediamo il tutorial. Come prima operazione ovviamente dovremo recarci sul sito web di GitHub in questo caso perché è lì che troviamo o stato CrossMix OS. Ci occorrerà ovviamente una micro SD per poter andare a mettere il nostro software proprio su di essa e io vi consiglio, link qui sotto in descrizione, almeno una micro SD da 128 GB così da ospitare il sistema ma allo stesso tempo anche per poterci mettere le ROM. Ci occorrerà oltre a questo anche un software per poter formattare la nostra micro SD. Non so se vi siete resi conto dalle schermate precedenti, sto operando su Windows ma potrete tranquillamente effettuare tutte quante queste operazioni su macOS. Ma qual è la discrimina in questo caso? Su macOS potrete tranquillamente andare a formattare la vostra micro SD in FAT32 perché lo consente. Come sapete bene invece Windows 11 non consente più questa operazione di default soltanto in ex FAT ma in questo caso non va bene per il nostro sistema operativo. Allora vi suggerirò un programma da utilizzare con una piccola specifica per poterlo fare ma la vedremo a breve. Comunque sia vi ho detto richiamoci sul sito web di GitHub nella sezione dello sviluppatore vedete czia64 CrossMix OS ovviamente come anticipato ripeto link in descrizione. Vi troverete su questa pagina questi sono i nostri file ma scorriamo nella sezione in basso dove potremo trovare una panoramica proprio su CrossMix OS. Quello che interessa a noi adesso è andare nella sezione installazione eccola qui perché troveremo delle notizie importanti. Ovviamente a voi non serve perché fondamentalmente vedrete tutto quanto nel video. Comunque una cosa voglio dirvi vedete CrossMix suggerisce per Windows di utilizzare il programma FAT32 format che in realtà è un software davvero molto comodo tra l'altro anche un software molto molto leggero si utilizza in pochi secondi ma cosa succede spesso? Ecco vi restituisce un errore in fase di formattazione perché ci sono dei software che lo utilizzano in fase di avvio quindi dovrete disabilitarli eccetera. Non è una cosa difficile ma voglio rendervi le cose davvero molto molto più semplici quindi io vi suggerisco di utilizzare un programma free che va bene per questa operazione altre funzioni sono a pagamento ma a noi non interesseranno ed è mini tool partition vi lascio anche di lui il link qui sotto in descrizione lo scaricate come un comunissimo programma e lo andate ad installare sul vostro computer vi creerà l'icona sul desktop. Torniamo un attimo alla schermata di cross mix torniamo indietro e saliamo su fino a recarci qui nella sezione a destra cross mix nella sezione a destra cross mix os in versione 1.2.1 clicchiamo su latest e vedete ci porterà su una pagina dove avremo tutta una serie di informazioni dei change log in base alle versioni precedenti voi scorrete fino in fondo alla pagina e cliccate su questo tastino una volta cliccato vi si aprirà nel mio caso il software per poterlo scaricare perché utilizzo un download manager a voi la schermata di windows quindi andate semplicemente a scaricare annullo così vi faccio vedere a voi comparirà questa schermata per comodità mettete il file sul desktop annulliamo perché io ovviamente l'ho già fatto il software per andare a formatare la micro sd lo abbiamo scaricato possiamo adesso andare a chiudere la nostra schermata ed ecco qui la situazione sul mio desktop ho installato mini tool ce l'ho qui lateralmente a destra qui ho il file di cross mix vedete in formato zip e lasciatelo in questo modo poi ho preparato le mie rom da trasferire successivamente e anche i bios vi farò vedere il tutto o le avete voi oppure vi ricordo che c'è anche la possibilità di andare a scaricare il mio mega pack di rom sul mio sito web trovate il link qui sotto in descrizione mi raccomando sia per la questione copyright sia per altre informazioni su perché il package è fatto in quella maniera trovate tutto quanto scritto sulla pagina del mega pack allora cosa fare adesso ho inserito all'interno del mio computer la pendrive eccola qui io sto utilizzando una da 64 gigabyte perché fondamentalmente non mi occorre una da 128 devo solo farvi vedere il tutorial comunque sia una volta inserita andate ad aprire mini tool partition attendete che si carichi la schermata principale eccola qui vedete nella lista qui in basso lui è andato a riconoscere subito la mia schedina vado a cliccare qui in questa parte a destra non sul nome disco 2 tasto destro del mouse e vado a cliccare su formatta etichetta partizione possiamo andare ad inserire cross mix scrivetelo così come ho fatto io andiamo a cambiare il file system e andiamo a mettere fat 32 dimensione cluster predefinita diamolo ok qui vedete cambiato però attenzione dobbiamo andare ancora ad applicare i nostri cambiamenti e lo facciamo qui altrimenti ecco non è cambiato assolutamente nulla clicchiamo su applica clicchiamo su sì ed ecco che il software procederà alla formattazione della nostra micro sd perfetto formattazione completata diamolo ok possiamo andare a chiudere il nostro software quindi una volta effettuata questa operazione andiamo in questo pc nel nostro caso apriamo cross mix mi metto momentaneamente al lato la mia finestra adesso vado ad aprire il file zippato di cross mix utilizzo winrar in versione gratuita voi potrete utilizzare qualsiasi tipo di software comunque sia guardate abbiamo tutta quanta una serie di file all'interno proprio del nostro file zip li andiamo a selezionare tutti quanti e semplicemente li andiamo a trascinare all'interno della micro sd appena preparata attendiamo che vengano estratti e che vengano copiati sulla nostra micro sd per non perdere tempo ragazzi ho tolto la micro sd per far vedere la procedura ho inserito quella già preparata che avevo in precedenza vedete cross mix os all'interno tutti quanti i file belli e pronti adesso per risparmiare tempo vi consiglio di andare a copiare quelli che sono i bios e quelle che sono le rom all'interno delle cartelline corrette allora cartella bios io l'ho già copiati ma voi li andate a prendere da internet oppure dal mio mega pack vi basterà semplicemente trascinarli all'interno stesso procedimento dovremo effettuare per le rom cartella roms guardate abbiamo tutti quanti gli emulatori che sono supportati andate nel vostro pack roms eccolo qui magari volete copiare quelle per playstation vi ricordo che la playstation 2 non è supportata e quindi playstation in questo caso prendete quelle che volete e ovviamente le andate a trascinare all'interno della cartella playstation qui collocata stessa cosa per altri emulatori ovviamente solo e soltanto questi che sono supportati una volta effettuata questa operazione potrete andare ad estrarre in maniera sicura la vostra micro sd e andarla ad inserire all'interno della console allora ho preparato qui la mia console vado ad inserire la micro sd fatto questo la vado ad accendere ecco che la trimui si sta avviando e a breve arriveremo direttamente sulla schermata principale del nostro sistema operativo che è molto simile a quello originario però ecco abbiamo tante implementazioni per esempio tutta quanta la collection di giochi di applicazioni vedete ma su questo ragazzi non mi ci soffermo perché come vi ho detto all'inizio del video ho realizzato una panoramica su cross mix os dove spiego e faccio vedere tutto ciò che comprende e soprattutto come funziona detto questo allora spero che questo tutorial vi sia piaciuto mi raccomando supportatemi con un like iscrivetevi al canale soprattutto fatemi sapere la vostra se ci sono stati problemi nel realizzare questa procedura ma mi raccomando questo potete farlo oltre che nei commenti qui sotto su youtube anche sulla chat telegram di supporto assolutamente non è un call center postate il vostro problema mi raccomando durante gli orari di funzionamento ma trovate tutto quanto indicato qui sotto in descrizione e io o altri utenti appena possibile cercheremo di rispondervi per il resto ci becchiamo anche sul mio profilo instagram mi raccomando seguitemi vi saluto e a un prossimo video ciao